Abbiamo messo mano alla macchina comunale per un motivo semplice, quando all'inizio dell'anno tu naturalmente provi a programmare quelli che sono i tuoi obiettivi, provi a costruire una macchina che naturalmente sia funzionale, sinergica agli obiettivi che ti sei posto. Una riorganizzazione necessaria per ridare l'infa nuova alla città di Scafati. Il sindaco Pasquale Liberti è convinto che in questo modo l'ente comunale potrà lavorare in primis per risolvere i problemi che i cittadini di Scafati vogliono vedere risolti, poi lavorare sui fondi europei, su cui l'amministrazione sembrerebbe puntare il tutto per tutto. Una decisione che fa seguito anche all'incontro della scorsa settimana presso la prefettura di Napoli, organizzato dal lanci regionale e che ha visto la partecipazione delle città medie del più Europa. Al tavolo erano presenti le città campane, tra cui Scafati, che oggi hanno sperimentato l'attuazione dei programmi integrati urbani, al fine di condividere le tematiche di comune interesse e individuare soluzioni da discutere per perseguire risultati attesi di completamente rafforzamento dei programmi in corso e stabilire al coltempo le azioni concrete da porre in essere con l'avvio della programmazione 2014-2020. La rimodulazione rientra naturalmente in quelle normali attività che servono anche a far girare i dirigenti, ma l'ho fatto anche nell'ambito dell'aggiunta e nell'ambito delle delega. Io dico sempre che ogni delega è un'esperienza straordinaria. Se ognuno poi si mette a lavorare solo su una delega, si standardizza. Lavorare su più delega invece ti dà la possibilità di avere anche un quadro della macchina che è più complessivo. Lavoriamo molto, lavoreremo molto sui fondi europei ancora una volta. Abbiamo un accordo da siglare in regione in queste ore per 10,2 milioni di euro, che sono i progetti retrospettivi. È fondamentale perché oggi senza i fondi europei non si realizza assolutamente nulla. Se non riesci a capatare risorse in regione, fondi extracomunali, non si muove una pietra, non si riesce neanche a riempire la buca, questo è quello che accade altrove. Poi naturalmente ci sono anche altri temi, servizi da garantire, penso alle politiche sociali, penso alla scuola, penso alla spesa per il sociale che abbiamo messo in campo, che arriva fino a 23 euro pro capite. Non è che da un momento all'altro i tagli del governo ti portano poi nella condizione o debbano metterti nella condizione di tagliare servizi che hai garantito fino a ieri. La gente risponderebbe male, quindi bisogna trovare una quadra.